Buonasera, benvenuti. Benvenuti a otto e mezzo, buonasera, benvenuta Mariana Mazzucato, economista e docente alla Sussex University in Gran Bretagna e buonasera, benvenuto Yoram Gutkeld, deputato del PD e consigliere economico di Renzi. Comincio con lei, onorevole, perché lei ha detto al Financial Times recentemente che la manovra economica di Renzi è una bomba atomica. Li chiedo quanto tempo ci vorrà ancora perché se ne accorgano gli italiani? Beh, gli effetti di questa bomba, devo dire che questa metafora serviva non ai fini bellici ma semplicemente per dire che la legge di stabilità contiene elementi di shock. Beh, entra in vigore il primo gennaio dell'anno prossimo e quindi io credo che ci vorrà qualche mese ma non troppi per avere gli effetti sull'occupazione, sulla stabilizzazione del lavoro. Quindi dal 2015 dobbiamo ancora appazientare un po'. Beh, siamo lì lì. Siamo lì. Professor Mazzucato, perché l'Italia è ancora in recessione? Ma penso che sia per via dell'offerta, cioè c'è un problema anche ancora di produttività delle imprese italiane, proprio perché non ci sono stati investimenti da circa 20 anni in tutti i fattori che fanno crescere la produttività. Ah, e poi c'è anche un problema sulla domanda, ci sono state anche delle misure regressive, per esempio l'aumento dell'IVA, e adesso ovviamente con gli 80 euro questo era positivo, nel senso che invece ha una ridistribuzione progressiva, però non è abbastanza, nel senso che c'è proprio bisogno di investimenti che fanno crescere non solo il numero di lavori, ma anche la qualità, cioè i stipendi devono aumentare, e per adesso non c'è né una politica industriale diciamo seria che faccia sì che si cresca invece di diminuire la produzione industriale, che credo che negli ultimi sei anni è diminuita del 25%, per farla aumentare non basta solo togliere diversi tipi di impedimenti, ma bisogna investire sia il pubblico che il privato. Ha capito Onorevole Goodgeld, avete due opinioni un po' diverse, no? Però in effetti è vero che l'Italia è l'unico grande paese dell'Eurozona che è ancora in recessione, quindi anche la vostra ricetta forse non è quella giusta. Ma iniziamo col dire che l'Italia ha dei problemi strutturali che nascono, io dico, 40 anni fa, e quindi noi stiamo cercando di risolvere problemi che per 40 anni non sono stati affrontati, aggravati negli ultimi anni. Abbiamo problemi di burocrazia, di lavoro, di pubblica amministrazione, di tasse e di istituzione e noi stiamo cercando di risolvere questi problemi. Dico solo un fatto, così mettiamo un po' di perspettiva su questa discussione. Così forse convince anche la professora Mazzucato che la vostra ricetta può funzionare. Sa qual è il paese europeo che negli ultimi 40 anni ha fatto più investimenti in infrastrutture? Chiedo a lei. No, non lo so. Allora, negli ultimi 40 anni il paese che ha fatto più investimenti in infrastrutture in Europa è l'Italia. Cosa abbiamo prodotto? Debito pubblico, poca infrastruttura e poca crescita. Quindi la ricetta non è semplicemente continuare a spendere. Noi dobbiamo sicuramente spendere meglio, ma soprattutto mettere l'imprenditore in condizione di fare impresa, di assumere, di operare, di fare investimenti e mettere nelle tasche dei consumatori un po' più soldi per investire, dandoli certezza per il futuro. Quindi, Mazzucato, meno tasse e tagli alla spesa pubblica, redistribuzione, di questo parleremo anche dopo, dei famosi 80 euro che sono stati una sua idea, credo, no, onorevole Wuttgeld? Beh, diciamo, ero uno degli favoritori. Solo che lei ha detto per adesso che state cercando di fare assumere, ma mi sembra che tutto il Jobs Act di aiutare a licenziare su tutto l'assumere è lì, ma diciamo che la riforma seria è sul potere licenziare. E questo è molto interessante, dato che adesso abbiamo quasi il 40% di youth unemployment in questo paese, che avere una vera riforma... Quindi della disoccupazione giovanile... Sì, però anche queste cinque, diciamo, riforme che ha elencato, che sono anche giuste, il problema è che, di nuovo, l'investimento non l'ho sentito. Adesso magari avete un gran piano di investimento, ha ragione di dire non basta l'infrastruttura, anche perché dipende che tipo di infrastruttura chi la sta gestendo, ma questa costante, diciamo, questa narrazione che tutto il problema è sia la dimensione e la struttura del pubblico, senza ammettere che ci sono anche enormi problemi di investimento privato, cioè la Fiat in Italia è parte del problema. È molto interessante che la Fiat è appena andata in America, prima di tutto è andata in America, questo è anche un problema per l'Italia, Obama ha chiesto che la Fiat investisse. Quindi in America non solo c'è un new deal, diciamo, che è in Zegnano, c'è anche proprio un deal fra governo e impresa. Investono, la Fiat in America investe in motori ibridi. Ma no, perché? Perché non è un new deal, no? No, no, non solo un new deal, deal, un'attenzione sana, un'attenzione fra governo e industria. E perché le imprese non investono in Italia? Non investono in Italia perché c'è troppa burocrazia, giustizia civile lentissima. E perché il lavoro costa troppo? Quindi noi cosa abbiamo fatto nella legge di stabilità? Abbiamo fatto questo. Chi assumerà l'anno prossimo, a partire dal primo gennaio del 2015, dei lavoratori a tempo indeterminato, ecco che un pezzo del Jobs Act in realtà è nella legge di stabilità, chi farà questo avrà una riduzione di questo termine terribile, astruso, che si chiama cuneo fiscale, che significa la differenza tra il costo del lavoratore per l'impresa e quello che lui mette in busta paga, la differenza scenderà del 70%. Ecco, parte di questo andrà nelle tasche dei lavoratori, parte di questo, una parte importante, consentirà l'impresa a ridurre il costo del lavoro. Questa operazione è un'operazione che noi crediamo stimolerà investimenti e occupazioni. Infatti Mazzucato Corenzi ha detto poco fa che dal 2015 sarà più facile assumere e più conveniente dal punto di vista economico. E questo è un passo avanti, no? Ma siamo sicuri che è il costo del lavoro che è troppo alto in Italia o è la divergenza fra la produttività del lavoro e il costo del lavoro, che è quello che si misura quando guardiamo il costo unità del lavoro, e quindi la grande domanda per l'Italia è da dove viene la produttività? È semplicemente togliendo le tasse o diversi tipi di regole, diciamo, il red tape famoso, oppure bisogna anche avere un serio strategico piano di investimenti pubblici non solo in infrastruttura, ma basta guardare quello che hanno fatto in Danimarca, in Germania, anche se non lo ammettono, hanno strainvestito negli anni in cose tipo questi istituti Fraunhofer che creano importante dinamismo fra scienza e industria. Quel piano lì io almeno non lo sento, magari ce l'avete, ma non si sente esplicitamente. Allora, la professoressa Mazzucato ha fatto un lavoro molto interessante che dimostra che gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo danno un ritorno importante. E io sono d'accordo con lei. Però, se guardiamo di nuovo i fatti italiani, sono quelli. Noi, in generale, investiamo troppo poco in ricerca e sviluppo. È un problema gigantesco, in questo sono totalmente d'accordo con lei. Però, se andiamo a vedere dove abbiamo il gap rispetto agli altri paesi, è nell'investimento privato in ricerca e sviluppo, non pubblico. L'investimento pubblico in ricerca e sviluppo italiano è un po' più basso, ma non molto più basso di quello di altri. È più basso della media? Un po' più basso, non molto più basso. Mentre invece l'investimento privato è molto, molto più basso, è inferiore a quello spagnolo, quello portoghese. Nonostante noi siamo un paese avvocato all'esportazione, questo è il problema che noi abbiamo risolto. E lì cosa si può fare? Cosa abbiamo fatto? Nella legge di stabilità abbiamo messo, per la prima volta, un incentivo importante a aumentare investimenti in ricerca e sviluppo. diversi centinaia di milioni che è un credito di imposta per chi aumenta l'investimento in ricerca e sviluppo. Dobbiamo fare ancora di più, spero che avremo le risorse l'anno prossimo per aumentare e rafforzare questo, ma questa è la direzione da intraprendere. Allora, diciamo che sono movimenti positivi. L'unico problema è che questi tipi di incentivi, perché l'Italia pensa molto sempre a sussidiare oppure incentivizzare, invece di anche, diciamo, mirare direttamente con questi investimenti. Perché se guardiamo di nuovo altri paesi, e questi dati ci sono proprio nell'Ox, perché si dividono gli investimenti diretti o indiretti. Indiretti sono quelli proprio attraverso i tax credits. Questi tax credits tendono a funzionare meglio, cioè creare addizionalità, cioè fare cose a venire che non sarebbero comunque avvenute, no? Quindi R&D, solo in paesi dove c'è già la voglia di investire, no? Cioè queste opportunità tecnologiche e di mercato che alla fine trainano l'investimento privato sono molto un risultato di questi investimenti pubblici diretti. Poi, sopra di quello, se uno ci mette un R&D tax credit, funziona, diciamo, per creare quella decisione marginale. Molto keynesiana, no? Ma nessuno qua investirà in ricerca e sviluppo se non c'è anche qualche opportunità dove investire. E il problema è che oggi le imprese stanno andando via proprio perché non c'è un piano di innovazione industriale che crea questa opportunità. Andrea Gutkalt, io vado in pubblicità, ma le do subito la parola dopo, naturalmente, anche perché ci chiederemo se è vero che nei paesi in cui è più facile licenziare è anche più facile creare lavoro, che è uno dei punti anche qualificanti, questo, no? Del vostro programma. Insomma, poi ne parliamo. Pubblicità. Allora, onorevole Gutkalt, perché pensate, ne parlavamo prima, no? A proposito di Jobs Act, perché pensate che per aumentare l'occupazione bisogna diminuire i vincoli per licenziare il lavoratore? Beh, prima di tutto per aumentare l'occupazione serve ridurre il costo del lavoro, è quello che abbiamo fatto nella legge di stabilità. Lo ridico perché è un punto fondamentale degli interventi che stiamo facendo. Fa parte del Jobs Act. Dopodiché abbiamo fatto degli interventi che sono all'interno del cosiddetto Jobs Act che sono per aumentare le tutele a chi perde il lavoro, aiutare a chi ha perso il lavoro o chi non l'ha mai avuto a trovarlo attraverso l'agenzia per l'impiego e rendere le regole per l'assunzione e per i licenziamenti eventuali più semplici e più prevedibili. Il tema non è rendere il licenziamento più facile, ma rende questo processo con regole più certe. Do solo i numeri. L'anno scorso sono state reintegrate dai giudici meno di 3.000 persone. Sono state licenziate senza un euro di indeniso più di 3.000 persone. Quindi l'obiettivo è garantire a chi eventualmente... Forse proprio perché c'è l'articolo 18, no? Perché ci sono questi numeri. No, perché in realtà se vediamo il numero di persone che hanno perso il posto di lavoro l'anno scorso parliamo di, o negli ultimi 18 mesi, parliamo di oltre mezzo milione di persone. Non c'è un problema licenziare le persone in Italia o terminare i posti di lavoro. Il problema è dare regole certe da un lato ai lavoratori, dall'altro ai datori di lavoro. Di questo si parla. Ed è uno degli elementi di un complesso intervento che riguarda aiuto a chi ha perso il lavoro, ammortizzatori sociali e soprattutto abbassamento del costo di lavoro. E' d'accordo, Mazzucato, che questo è un punto centrale nel mercato del lavoro italiano? Ma non è, diciamo, la mia specialità. Però mi sembra che sono tipo 15 anni che state tinkering, no? Col mercato di lavoro, al punto che adesso ci sono pare 40 diversi tipi di contratti per i lavoratori italiani. Questo sta solo aumentando. Cioè, quando parla di certezza, non so, almeno parlando con diversi tipi di impresari in Italia, non si sente che questo è il loro grosso impedimento, soprattutto quelli che veramente vogliono investire su, diciamo, aree interessanti. Non so, tornando prima al problema su cosa investire, secondo me non è, per esempio, la ricerca e sviluppo solo. Sarebbe facile, ok, facciamo tanta ricerca e sviluppo e poi improvvisamente viene fuori un miracolo. No, quello che, per esempio, hanno bisogno questi impresari è anche un tipo di finanza paziente di lungo termine. E quel tipo di finanza sarebbe una riforma importantissima da fare in Italia, no? Ecco, lei ha detto di lungo termine, no? Il periodo lungo. Sembra che oggi, onorevole Wood, nessun politico, tantomeno un Presidente del Consiglio, se lo possa più permettere, no? Perché l'elettorato, l'opinione pubblica chiede risultati certi e rapidissimi. Quindi questo per voi rappresenta un grosso problema anche, no? Ed è per questo che molti pensano che l'anno prossimo ci potrebbero essere elezioni anticipate, no? E che Renzi, se vede che la sua popolarità ha visto gli ultimi sondaggi di Renzi e del PD, no? C'è un calo di consensi che quindi vi converrebbe andare alle elezioni anticipate. Io non credo proprio che ci saranno elezioni anticipate l'anno prossimo. Noi stiamo facendo, questo governo sta facendo, di fatto, il programma che l'allora sindaco di Firenze, oggi Presidente del Consiglio, ha presentato due anni fa quando ha fatto la prima corsa alle primarie del Partito Democratico nel 2012. Questo programma, di fatto, è stato votato l'anno scorso dal 70% degli elettori del Partito Democratico. Sono andate a votare quasi 3 milioni di persone. E questo Partito Democratico, così uscito dalle primarie, ha ottenuto il 41%. Governare in tempi di crisi, come lei sa, è molto complicato, mantenendo il consenso alto. Noi continuiamo, il governo continua in questo percorso. Un percorso di riforme fondamentali su tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato, se poi c'è tempo possiamo approfondire anche gli aspetti di riforma istituzionale e le altre cose che stiamo facendo. Queste riforme sono riforme che l'Italia è in deficit di riforme, non deficit economico, di 40 anni. E io credo che gli italiani stiano capendo questo. Quindi il tema non è il sondaggio di questa settimana o dell'altra settimana, è un programma di cambiamento vero di questo paese che richiederà tempo e il motivo per cui non si andrà a votare l'anno prossimo. Noi abbiamo bisogno dei famosi mille giorni per non dire completare ma avviare un vero cambiamento del paese. Cosa Mazzucato, lei crede che l'Italia sarà capace di grandi cambiamenti così come auspica Renzi e il suo governo? Di nuovo dipende su dove si mette l'enfasi perché se l'impedimento è veramente quello che dite voi, quindi il mercato di lavoro, tasse, burocrazia e basta allora sì ci sarà un'enorme crescita fra un anno. Se invece il problema non è per esempio il mercato di lavoro il costo del lavoro ma la mancanza di investimenti sia privati che pubblici che dicevo prima che quindi fan sì che la produttività in Italia negli ultimi 15 anni non 45, negli ultimi 15 anni la produttività italiana non è cresciuta per via di mancanza di investimenti. Quindi di nuovo se riusciamo a tirar fuori un vero piano industriale e non solo mettere tutta l'enfasi su questa rigidità perché di nuovo se per esempio l'articolo 18 fosse stato un vero impedimento dovremmo vedere moltissime imprese che hanno solo 13 o 14 lavoratori perché appena arrivano a quel quindicesimo boff scatta l'articolo 18. Non è vero le imprese italiane sono piccolissime 1, 2, 3, 4 lavoratori e il problema è che non avendo un ecosistema un vero sistema di innovazione come quello tedesco come quello americano come quello danese finlandese queste piccole imprese troppo piccole che non sono al punto della soglia dell'articolo 18 non crescono quindi la vera domanda che io le farei è perché allora non stanno crescendo queste imprese solo per via della burocrazia italiana e le tasse e il mercato di lavoro? Le tasse e le burocrazie e il mercato di lavoro sono impedimenti però evidentemente mancano investimenti in ricerca e sviluppo il motivo per cui noi abbiamo dato veramente per la prima volta incettivi forti alla ricerca e sviluppo manca per esempio un sostegno a queste imprese quando vanno all'estero quindi stiamo rafforzando tutti i meccanismi di supporto al Made in Italy anche questo sono fondi importanti che saranno stanziati nella legge di stabilità quindi lavoriamo su tutti gli aspetti di sistema lei ha ragione da noi mancano sistemi di supporto alle imprese che esistono in altri paesi ma non è questione di fare investimenti pubblici è la questione di dargli il sostegno adeguato se lei confronta il sostegno che danno ambasciate francesi e tedesche alle aziende francesi e tedesche con quello che danno le ambasciate italiane in alcuni paesi devo dire in altri paesi funziona benissimo ma in alcuni paesi non lo danno noi abbiamo bisogno di intervenire su questi meccanismi per dare sostegno alle nostre imprese allora su questo diciamo è il nostro punto di disaccordo perché prima di tutto io non stavo parlando di incentivi per la ricerca io parlo proprio di aumentare il numero di ricercatori sia nelle imprese che nel pubblico e invece mi sembra che il numero il personale universitario negli ultimi sei anni è diminuito del 20% ok questo è un problema perché stiamo parlando del capitale umano che alla fine fa la ricerca quindi solo questi incentivi come dicevo prima c'è pochissima evidenza empirica statistica che da soli senza una una forte sfinta di investimenti diretti in Israele per esempio da dove lei viene ci sono fortissimi investimenti diretti e in più ogni tanto mettono un tax credit che funziona loro hanno per esempio il programma di Iosma che ha dato proprio questo tipo di finanza pubblica diretta di lungo termine alle imprese che non è quello che fanno questi export financing groups dentro delle ambasciate le ambasciate non sono non è il pubblico che investe quello che ha la Germania è per esempio una banca pubblica il KFW che qua non abbiamo una banca pubblica di quel genere quindi una riforma italiana sarebbe di veramente trasformare quello che oggi è la cassa depositi e prestiti in una vera banca pubblica questo però è da escludere che questo possa accadere no? chiedo all'onorevole Gutt che la cassa depositi e prestiti già oggi dà sostegno all'impresa italiana c'è il fondo strategico che investe in imprese italiane sicuramente bisogna rafforzare maggiormente questo finanziato con i risparmi del postale quindi è un meccanismo di finanziamento noi tra l'altro abbiamo nello sblocca Italia a legge che si chiama sblocca Italia abbiamo previsto una serie di agevolazione rendere l'operazione della cassa depositi e prestiti più agevole a favore delle imprese private noi stiamo lavorando su incentivi simili a quello dati in Israele al programma Yosman che sono orientati a sviluppare il business del venture capital cioè sono capitale messo a disposizione degli start up quindi stiamo facendo tutte queste operazioni Yosman non è un programma che sta aiutando i venture capital privati è proprio una forma di venture capital pubblico ma insomma sul pubblico qui chiaramente non siete d'accordo su quanto il pubblico debba intervenire soprattutto in una fase di crisi economica vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché non in tutti i paesi del mondo si pensa che la risposta giusta in fasi in momenti di crisi sia quello di tagliare la spesa pubblica guardate l'anno prossimo 120 paesi faranno tagli alla spesa pubblica riducendo i propri sistemi di protezione sociale ma ce ne saranno altri che faranno una scelta opposta dedicando più risorse alla previdenza alla sanità all'istruzione e ai servizi sociali paesi come l'argentina e il sud africa hanno recentemente introdotto l'assegno familiare altri come il Brasile e la Cina hanno raggiunto una copertura pensionistica quasi universale e hanno aumentato i salari minimi Thailandia e Sud Africa hanno esteso a tutti l'assistenza sanitaria in Bolivia e Namibia a Panama e nelle Maldive è aumentata la spesa per i disoccupati le madri i bambini gli anziani altri paesi come il Mozambico sono riusciti partendo da zero a creare reti minime di protezione sociale lo studio dell'organizzazione internazionale del lavoro che fornisce queste informazioni osserva che nei paesi a reddito medio che stanno espandendo i propri sistemi di welfare ci sono non solo conseguenze immediate sulla riduzione delle povertà e delle disuguaglianze ma anche effetti positivi sulle strategie di crescita a partire dalla domanda interna è una strada opposta a quella imboccata dai paesi più ricchi che invece stanno ridimensionando i propri sistemi di sicurezza sociale nell'Unione Europea i tagli hanno già contribuito a far aumentare la povertà che colpisce ormai 123 milioni di persone ovvero il 24% della popolazione e mentre le disuguaglianze nella distribuzione dei redditi tra paesi si vanno rapidamente riducendo quelle all'interno di ciascun paese stanno altrettanto rapidamente aumentando Onorevole Gutgeld a proposito di tagli è possibile che il governo decida di rinunciare alla famosa TAV TAV è un accordo europeo un accordo con la Francia quindi ovviamente qualunque decisione che riguarda questo tipo di investimento va fatto assieme l'accordo era di farlo bisognerebbe farlo in modo che costi meno possibile adesso anche Renzi ha detto che vuole sentire ascoltare un po' meglio le voci di coloro che dicono forse non è poi questa grande idea bisognerebbe prima di tutto assicurare che costi il meno possibile noi come dicevo prima abbiamo purtroppo una storia di investimenti costosissimi se misurate al chilometro rispetto alla Francia la Spagna e la Germania volevo chiedere Mazzucato perché abbiamo pochi minuti vorrei andare sull'Europa un attimo perché il vero braccio di ferro oggi sembra essere tra Mario Draghi e Angela Merkel è così? diciamo che il problema con la Merkel è che l'analisi tedesca di cos'è che fa la Germania diversa dall'Italia dal Portogallo e dalla Grecia è quella sbagliata non è che la Germania in qualche modo ha stretto la cintura e gli altri hanno speso troppo in Italia il deficit è stato e ancora abbastanza basso cioè era meno di quello tedesco prima della crisi il problema è che anche con un deficit modesto se il denominatore di debito P non cresce da vent'anni ma chi vincerà tra Draghi e Merkel? il problema è che anche Draghi che finalmente speriamo renderà la banca centrale europea una vera banca centrale in realtà per esempio Quanto e Televisi da solo non è che funziona in America tutti quei soldi erano trilioni di dollari sono finiti nelle banche se non vengono anche diretti attraverso per esempio un vero cofinanziamento fra la banca di investimenti europeo e la banca centrale europea questi soldi alla fine non vengono non daranno i frutti sperati nell'economia reale nell'economia reale Onorevole Gutkert secondo lei chi la spunterà tra Draghi e Merkel e la Merkel cambierà opinione un pochino almeno sulle politiche di austerità? Ma io credo sia evidente che le politiche da un lato fiscali dei paesi europei dall'altra parte la politica della banca centrale europea non stiano dando non stiano funzionando non stanno dando i risultati che servono e anche i tentativi di Renzi stanno dando i risultati sperati i suoi tentativi di convincere anche la Merkel a cambiare rotta noi abbiamo questo problema che per fare questa discussione in modo serio e credibile avere il peso che il nostro paese merita dobbiamo essere credibili al tavolo per essere credibili al tavolo dobbiamo aver dimostrato di fare le riforme che stiamo facendo io credo che l'inizio dell'anno prossimo cambieranno un po' di cose noi le cose che stiamo facendo stiamo dicendo di fare le stiamo facendo e l'anno prossimo credo che partiranno la discussione a questo punto con un peso diverso anche del nostro paese e dove pensate di tagliare di più poi alla fine a proposito di spending review beh la spesa è stata tagliata soprattutto nei ministeri ed è stata tagliata in modo selettivo quindi tagli lineari no? non sono tagli lineari sono tutti tagli con nome e cognome chi ha tempo e voglia può leggere la legge di stabilità ma lei esclude che possano scattare le clausole di salvaguardia sì esclude quindi niente aumenti dell'iva prossimamente su questi schermi assolutamente ma la cosa incredibile dell'Italia è che la parola spending review non vuol dire su cosa spendere vuol dire su cosa tagliare in Inghilterra quando si fa il spending review tutti i giornali te lo mostrano con una mappa su quello dove spenderà il governo qua invece vuol dire solo tagli ma noi abbiamo fatto delle scelte abbiamo deciso di investire più sulla scuola abbiamo deciso di dare più libertà ai comuni l'investimento netto sulla scuola l'investimento netto sulla scuola aumenta quindi noi in realtà stiamo facendo delle scelte tagliamo da una parte e investiamo dall'altra parte non è diverso onorevole bisogna che però mantenga le promesse le promesse erano di dare una scorsa di investimento all'Europa noi siamo in attesa di questo ma quindi Renzi che si è riappacificato al G20 in Australia con Juncker ha ottenuto qualche cosa dal presidente della commissione perché in realtà non è molto credibile un'Europa che abbia diciamo nel suo massimo vertice un rappresentante come Juncker che ha aiutato le grandi aziende con parti occulti a pagare meno tasse possibili insomma non è un bel il biglietto da visita l'Unione Europea sarà credibile se saprà mettere in atto delle politiche che riconducono questo continente alla crescita va bene speriamo speriamo che sia così grazie professore Mazzucato grazie onorevole Gutgal grazie spettatici e spettatori